Ma la verità è molto diversa. La verità è che oggi l'autorità può muoversi nell'ambito dell'accertamento sintetico con grande libertà, con eccessiva discrezionalità. Da questo parte il lavoro del Vice Ministro Leo che dice che occorre fare una norma che a garanzia dei contribuenti non dia dei poteri che sono illimitati rispetto a questo tipo di accertamento. E lei perché l'ha sospeso? Io l'ho sospesa perché la voglio vedere meglio, nel senso che io penso che quello che noi dobbiamo fare sul tema specifico della vicenda dell'accertamento sintetico è una cosa è colpire i casi che sono oggettivamente intollerabili, cioè gente che gira col Ferrari e si dichiara nulla tenente. Altra cosa è correre il rischio di infilare nell'ordinamento un'altra norma che vessa il cittadino comune, sulla quale io sono contraria.